asmr misteri video misteri video misteri una notte di misteri dopo un'estate di misteri e un settembre di misteri michele misteri io quest'oggi sono michele misteri vi invito a devastare c'è anche un alieno guardate vi invito a devastare di like questo video condividetelo con tutti i tifosi che conoscete guardatevi i video fatti commenti mi avete chiesto di commentare napoli lazio non l'ho commentata perché quel giorno c'erano i video con i voti ai calciomercati e vi prego di rivedere quello della fiorentina perché è attuale è profondamente attuale quindi andatevelo a vedere di napoli lazio di tutto il resto parleremo mercoledì sera alle ore 21 ok ho anche già allertato il buon peppone cuore azzurro luca di 42 fantasia il duca nero azzurro ok il bruni faremo una live devastante così come martedì sera faremo una live devastante ad esclusivo tema fiorentina con il giannattasio dovellini ok dimitri conti e vittorio orlando per parlare di questa viola di cui parlo anch'io questa notte in questa notte di misteri in questa notte di misteri una notte misteriosa in mezzo ai campi a parlare di misteri con michele misteri allora parto da due preconcetti questi sono anche i risultati della conference avete voluto la conference la conference è questo è giocare ogni tre giorni e perdere energie mentali fisiche poi in campionato non sei sul pezzo perché hai giocato due giorni prima e questo è la conference siamo l'unica tifoseria in italia probabilmente contenta di fare la conference e questi sono i risultati hai voluto la bicicletta e devi pedalare devi pedalare poi dico anche che non è contro quest'inter qui che oggettivamente ha gasato va detto che noi dobbiamo confrontarci non è con l'inter che dobbiamo parametrarci ok anche se l'anno scorso si vinse a san siro ma va bene e poi c'è un'altra cosa italiano lo si conosce non si può chiedere italiano di fare catenaccio difesa di gestire con italiano non gestisce un cazzo e a me va anche bene italiano lo prendi e se lo prendi devi conoscere le caratteristiche del gioco le esigenze lo metti in condizione è chiaro che se c'è un allenatore che fa un gioco alto devi avere un mediano che stoppi le ripartenze non puoi presentarti con un centrocampo del genere ma non vedi che sei il dottor bosconovic sei il dottor bosconovic di Tekken che quando vai indietro cadi per terra non puoi fare questo cosa dobbiamo fare qual è qual è l'alternativa fare catenaccio a san siro pensavate che ne venivamo fuori facendo catenaccio perché siamo anche bravi a difendere perché abbiamo abbiamo veramente una difesa arcigna adatta a fare questo tipo di ma non scherziamo ma piuttosto mettiamoci a pensare i misteri hashtag misteri che riguardano questa rosa che tu sai di dover consegnare a italia io ho visto segnali magari sono complottista io ma ho visto dei segnali codici perché fai esordire a matucci perché entra a matucci a matucci a matucci a matucci fai esordire a matucci a san siro che può uscirne anche una debacle ma non è san siro dove far esordire a matucci e perché io non devo vederci un segnale come a dire guarda che faccio entrare questi ho e poi mi dite eh ma italiano ha concordato il mercato è contento del mercato lui chi lo ha detto chi lo ha detto quelli che ci dicevano che dopo mezz'ora di eh discussione con barone e quando si sono incontrati per andare avanti avevano già deciso i nomi di chi prendere ma per piace ma perpia ma perpia ma perpia ma perpia perché entra a matucci a matucci a non duncan perché fa rigiocare gli stessi che hanno giocato tre giorni fa distrutti ma parisi 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 che ci veniva dipinto come il marco scafu di di solofra non gioca mai perché non gioca a parisi perché non gioca a parisi dov'è parisi dove ieri mina esiste perché c'è di perché c'è di igor a 25 milioni lo sottotisci con ieri mina qual è il senso di prendere perché hai preso ieri mina beltrà 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 dopo 45 minuti è stato tolto cos'è una bocciatura peso è peso togliere attaccante dopo 45 minuti per fare entrare in zona non è un segnale questo perché rigioca bonaventura perché rigioca arturo perché non hai non hai gente o italiano creda di non averlo non l'hai veramente dove sabiri dove sono so dove sono sabiri e icone dove cazzo è icone cosa è successo icone dove sono icone sabiri ma dove sono questi uomini dove icone cosa è successo è icone dove icone dove sabiri cosa è successo con sabiri perché quando si prendono gli attaccanti non si guarda le caratteristiche che l'attaccante deve avere nel gioco di italiano a voi oggi beltrà vi sembra un giocatore dalle caratteristiche adatte al nostro gioco a me no a me sembra scamacca un attaccante adatto per le caratteristiche del nostro gioco io un gol di testa come quello che ha fatto scamacca non lo vedo fare dei nostri attaccanti da vlaovic e perché prendi beltrano ha le caratteristiche per noi beltrano perché hai preso cabral aveva le caratteristiche per noi cabral io vedo io vedo misteri io vedo misteri imponenti impenetrabili perché vendi amrabat e lo sostituisci con maxime lopez perché perché vendi amrabat e lo sostituisci con maxime lopez ultimo giorno io percepisco dei misteri importanti impenetrabili in questa fiorentina non so voi ma a me c'è qualcosa che non torna a me c'è qualcosa che non torna il ritiro al viola park il ritiro al viola park io non ne so un cazzo perché io di queste cose qua di 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 preparazione fisica di di atletismo non so un cazzo la cosa più atletica che ho fatto oggi è stata cambiare canale che è nonostante questo ho fatto più gol in tre partite dei nostri due attaccanti in cinque per la fiorentina tra l'altro ma e se avessero ragione gli scettici del ritiro se avessero ragione quelli che dicono che abbiamo sbagliato a fare ritiro al viola park hanno ragione loro o no io non so un cazzo chiedo a voi misteri una notte di misteri impenetrabili una notte di misteri grazie a tutti